salve a tutti ragazzi ben ritrovati siamo arrivati al dunque per quanto riguarda mortal kombat 11 adesso guarderemo insieme questo trailer del combat pack 2 è appena stato annunciato sono le 15.02 quindi è stato annunciato tipo un minuto fa io non l'ho guardato è la prima volta che provo a fare questo format di video visto che comunque devo guardarlo questo punto lo guardiamo insieme piuttosto che guardarlo in stream con persone che possono esserci sul momento e persone che magari non ci sono arrivano più tardi lo guardo una sola volta faccio un reaction video come fanno i veri youtuber e vediamo un po che cosa ne viene fuori si pensava personaggi singoli non sono personaggi singoli è un combat pack intero quindi sono sul twitter di Ed Boon vediamo un po di che cosa si tratta siamo completamente in blind non ho la più pallida l'idea di che personaggio verrà annunciato quindi godiamoci insieme rain quindi il primo personaggio è rain se lo aspettavano tutti questo cos'è predator un altro di nuovo predator no è lei però c'è qualcosa che mi dà di predator in tutto questo è il primo personaggio verrà Grazie a tutti. Ok, 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 c'è troppa roba, dobbiamo assolutamente parlarne perché c'è veramente tanta, tanta, tanta roba di cui parlare. Allora, torniamo indietro. Per quanto riguarda i personaggi di DLC, togliamoceli subito di mezzo, era abbastanza scontato che ci fossero questi personaggi. Milena era in assoluto il personaggio più richiesto da parte dei fan, tanto che si stava rischiando lo stalking sul tweet di Ed Boon, sul Twitter di Ed Boon, perché tutti stavano richiedendo Milena ogni volta, era diventato quasi un troll nei confronti di Ed Boon. Qualsiasi cosa, anche sulle... cioè c'è stato quasi uno scandalo perché su una news che riguardava il Covid, c'era gente che chiedeva Milena a Ed Boon, quindi siamo diciamo a questi livelli. Rain era l'altro personaggio subito dopo più richiesto, quindi va bene, va benissimo. Quello che non mi aspettavo è Rambo. Cioè Rambo, lo dico subito, non c'entra un ciuffolo con Mortal Kombat. Ok, è un personaggio storico, iconico, sono contento, da bambino degli anni 80 e 90, però non c'entra assolutamente niente con Mortal Kombat. hanno abbandonato il discorso horror adesso, che secondo me ci stava molto meglio ai tempi di Mortal Kombat X e hanno abbracciato questa cosa delle vecchie star del cinema, dei vecchi personaggi iconici del cinema dannata. Quindi abbiamo Robocop, poi abbiamo Terminator. Diciamo che in questa ottica ha senso che ci sia anche Rambo. Dallo punto di vista invece quasi filologico per quanto riguarda l'attinenza con Mortal Kombat, secondo me non c'entra assolutamente niente e rischia di essere un personaggio molto simile già a Terminator e a Robocop. Però vedremo, ripeto, magari il gameplay sarà più innovativo, sarà diverso rispetto agli altri due, però diciamo che tra le tante scelte avrei preferito Ash Williams. Sono contento, sì, perché ripeto è un personaggio che mi sta particolarmente a cuore, però temo che non c'entri molto con Mortal Kombat. Molto contento invece degli altri due personaggi che erano ovviamente abbastanza scontati, anche se vogliamo. Altre due piccole riflessioni. Riflessione numero uno, il Kombat Pack 2, perché sì, è il secondo Kombat Pack, sarà formato solo da tre personaggi. Questa è la stessa cosa di Aftermath. Non è una grande offerta secondo me, perché sono passati da un numero più consistente di personaggi a soli tre personaggi, e molto probabilmente ce lo venderanno a prezzo pieno, quindi non lo so, non lo so. Mi sembra un po' pochino. Sta di fatto che comunque stanno lavorando sotto carico, stanno lavorando probabilmente in telelavoro, quindi non stanno lavorando più in origine. Ok, va benissimo questa cosa qui, però, ripeto, siccome molto probabilmente sarà venduto a pezzo pieno come Aftermath, è un po' pochino, e sarà un po' pochino. Riguardo invece il discorso della versione, si chiamerà quindi Mortal Kombat Ultimate. La cosa importante è che sarà la versione Game of the Year, proprio un video scorso, un video fa, parlavo con uno dei miei viewer che mi aveva scritto ma uscirà una versione tutta in uno per chi si è perso Aftermath, eccola lì. Come avevo previsto, abbiamo la versione Ultimate che contiene l'originale, i due Kombat Pack e l'espansione Aftermath. Quindi è la Game of the Year, il che mi lascia anche presagire che questo sia l'ultimo Kombat Pack per Mortal Kombat, perché questa, a tutti gli effetti, è un'edizione Game of the Year. La cosa anche interessante è che uscirà anche su PS5 e questo quindi, diciamo, allontana i rumor che volevano un Injustice 3 o addirittura un nuovo Mortal Kombat o un qualcosa da parte di Venere per PS5, perché stanno riciclando il Mortal Kombat 11 ma con tempi di caricamento più rapidi e miglioramenti visivi. Ok, va bene, sono anche contento che sia cross-gen, quindi questo risponde anche a una problematica che molti avevano posto, ovvero posso giocare io utente PS5 con gli utenti PS4 online? La risposta è sì e probabilmente molti altri picchiaduro seguiranno questa via. Penso per esempio a Street Fighter V, riproponendo una versione aggiornata del loro titolo di punta, visto che di fatto non hanno niente di nuovo, che sia compatibile in cross-play. Quindi, dicembre, novembre 2020, quindi a due giorni dall'uscita di PS5 e abbiamo anche ovviamente le solite skin pre-order, che sono a tema viaggio nel tempo, a quanto pare. Molto, molto cafone, specialmente quella di Liu Kang, però... The Gustibus! Niente, questi erano gli ultimi update. Penso di avervi aggiornato di tutto, vi ho dato le mie impressioni. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto, niente di che faccia perdere la testa, diciamo, ma comunque va bene, cioè, ok, abbiamo un po' di linfa vitale nuova su Mortal Kombat e quindi era il Kombat Pack 2, era esattamente quello che ci aspettavamo. Niente, io non ho altro da dire, spero abbiate apprezzato il video e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!